Cominceremo con Harikirtana Prabhupada. Si è preparato a questo momento per 39 anni, un anno nel grembo di sua madre e 38 fuori. Grazie. 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 questo mi ha fatto sviluppare fiducia nel mio servizio e solo la fiducia di una sola persona ha permesso di costruire tutto il resto quindi oggi abbiamo molti dvotati, siamo aiutati molti dvotati anche mio mio figlio, che è venuto per molti anni e ha questa meravigliosa figlia, Vindavaneshwari, che è in l'altra parte, qui è davvero davvero Vindavaneshwari, siamo anche molto felici per aver dato l'opportunità all'inno di tornare alla prossima, per arrivare alla Krishna Consciousness arrivo! Noi siamo riconoscenti verso tutti e soprattutto per, anche Ari Kitten è stato portato e riportato con la sua bravissima moglie, meravigliosa moglie, che è riuscita nel giro di pochissimo tempo a farlo ritornare nella coscienza di Krishna, a essere qui oggi con noi e anche io vorrei ringraziare il mio figlio, Chakravati, che mi ha supportato per molti anni e senza il quale ho vinto di essere in un corpo di woman, quindi ho certi obiettivi e un certo set di mente e, inoltre tutte le responsabilità che ho, che sono in realtà responsabilità per un uomo, ancora senza il suo supporto non potrei fare una sola cosa e io vorrei ringraziare per questo Volevo anche ringraziare il mio marito, Chakravati, perché nonostante io sia impegnata, abbia questo corpo femminile, mi sono presa degli impegni sicuramente molto maschili di gestione, di responsabilità e solo grazie al suo supporto che posso portarli avanti e ringraziare il mio figlio e ringraziare il mio figlio esempio in l'absence di Shriya Prabhupada's presenza fisica, quindi grazie molto per la famiglia. Gravati Prabhu, per favore, concedi le sue benedizioni su Hari Kirtan. In realtà, prendendo l'initazione da te, è lui che mi sta dando le benedizioni. And me too. I am particularly, especially happy. We named, when he was born, we named him Hari Kirtan. So, I am especially happy to see that he is making that name his life and soul. And becoming such a wonderful kid. He is spreading this great devotion and feeling the holy name and performing Shri Nam Seva in such a sincere way. And, it was mentioned before that he had some years before he... è stato menzionato che lui si è sentato per un periodo dal movimento e questo non è solo colpa sua ma ha avuto anche delle esperienze che gli hanno spezzato il cuore all'interno del movimento. But through all these experiences and trials, one thing in our family, also our daughter and him, they always could see in you an example of spiritual integrity and this is the reason why he can now, with faith, take shelter at your feet. Thank you, Boris. Sia lui che mia nostra figlia hanno sempre visto in tutti i momenti di tribolazione che hanno avuto, hanno sempre visto in Radana Swami un esempio di integrità, di amore, di compassione che gli ha permesso di superare tutto ed essere qui oggi a prendere iniziazione davanti a lui. Grazie. Grazie. We would like Malati Devi, the first mother in all of Isca, to give her blessings. E vorremmo che Malati Devi, la prima madre del movimento Isca, ci dia anche lei le sue benedizioni. Mi heart felt the best wishes, my gratitude. I'm not one to give blessings, because I'm too fallen, but I'm so happy to be here today Sono troppo bassa per dare delle benedizioni ma sono così felice di essere qui oggi e vedere questo giovane uomo che ormai è già adulto da un pezzo che prende questa iniziazione quindi voglio ringraziare di cuore Radhanath Maraj di Nashara Namataji Chakravarti Prabhu e naturalmente sua divina grazia Shila Prabhupada adesso riprenderei la polvere di spiriti locco dentro dei genitori grazie 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 quando era l'ultima volta che l'hai fatto? grazie 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 on behalf of Srila Prabhupada and our Guru Parampara to give you the wonderful name Adi Kirtan Das Adi Voi 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 la cipria vuoi dire qualcosa volevo ringraziare tutti i devoti e soprattutto radhanat maraj e anche il presidente del tempio di prabhupadadeshi che hanno organizzato così bene questa cerimonia e quindi mando i miei auguri a mia figlia namam britta che prenda le benedizioni di tutti per questa cerimonia quindi mi dico i miei migliori auguri a mia figlia namam britta che possa ottenere tutte le benedizioni di questa cerimonia Hare Krishna Adios Grazie 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 On behalf of Śrīla Prabhupāda and our Guru Parampara, I'm very happy to give you the name Namamrita Priya Devi Dasa. Avivyo! 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 Anangamanchari Devi, please come and speak something. Ananga Manjali Devi, per favore, vieni e dici qualcosa. Hare Krishna. Hare Krishna. Questa volta non ho le potezioni di dolce per offerti, come prima, ma ho il Govinda. And I'm very, very happy that he's my son, and now he will be my godbrother as well. Questa volta non ho di dolci d'offerti, Marajma o Govinda, e così diventeremo praticamente confraterni. Io e mio figlio diventeremo confraterni. That is very esoteric. Grazie per avermi sempre dato le tue benedizioni e per favore accetta. Grazie per aver accettato Govinda. Jai. Adio. 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 Marajma, I vow to follow the four regulated principles, no meat-eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. And I vow to chant minimum 16 rounds every day for the rest of my life, and try to be the servant of the servant of the servant. I'm sure you're proud of her. Thank you very much. On behalf of Srila Prabhupada and our Guru Parampara, it is my great honor to give you the name Govinda Kishwar Das. Adio, Adio, Ale provides the jointvale of your life. Arie and I vow, Arie and I am proud to help you In었다. Adio, nepri, API. Adio, apri, Omaha, Camilla, Asia are the name Govinda Kishwar Das. Carabinata Kishwar Das Urchinunur, Pip Betty Kila. Grazie. Dear Guru Maharaj, I vow to follow the full-regulative principle. No gambling, no intoxication, no illicit sexed, no meat, eat fish, and eggs. And to chant at least sixteen rams every day, and to try to be the servant of the servant of the servant of Śrīla Prabhupāda. Thank you. Andrea è un servitore molto caro di sua santità, Satsvarupa Das Goswami. La sua santità, Satsvarupa Das Goswami ha scritto una lettera personale per raccomandarlo e ha espresso in questa lettera quanto lui ti ama e quanto ti apprezza. Io sono molto onorato e commosso di poter essere il servitore di un servitore di Satsvarupa Das Goswami. Mi sono emozionato troppo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ma in qualche modo non ha funzionato in Roma. E ritornando proprio da adesso ci siamo fermati a Bologna. E alcuni devoti che risiedevano lì ci hanno spinto a rimanere a Bologna. E' uno di questi è proprio qui. E' travestito, è camuffato, ma è qui. Anubhava Prabhu ci ha chiesto di rimanere a Bologna. E così cominciamo a Bologna insieme, dieci anni fa. E in qualche modo per l'arrangiamento di Krishna dopo breve tempo è arrivato prima Kumara Prabhu. E dopo qualche altro anno è arrivata a Kishori Priya, sua moglie. e Kishori Priya è un'allieva della scuola di yoga di Daniela. E così ha cominciato a frequentare il nostro centro Vaikunta. E Daniela vide un tale cambiamento, trasformazione in Kishori Priya. E così pensò, andiamo a vedere che cosa succede in questo centro Vaikunta. Che l'ha trasformata così tanto. E da allora anche lei diventò parte del centro Vaikunta. E con il suo sforzo sincero ha chiamato e attratto così tante persone alla coscienza di Krishna. Krishna dice nella Bhagavad Gita che qualsiasi cosa, grandi personalità fanno, e gli altri la seguono. E abbiamo visto anche negli ultimi giorni a Bologna così tante persone che si sono avvicinate grazie alla sua predica e insegnamenti. Preghiamo a Shishigornitai, Shila Prabhupada e a Sra. Radhanaswami di dare le loro benedizioni in modo che possa continuare ad andare avanti così e dare la coscienza di Krishna a tante tante persone. E che lei possa controllare le sue emozioni e concludere, andare avanti in questa cerimonia. Grazie, Guru Maharaj. Ti prometto di seguire i principi regolatori, non mangiare né carne né pesce né uova, non compiere sesso illecito, non assumere indossicanti e non giocare d'azzardo. Ti prometto di recitare almeno 16 giri del Mahamantra Hare Krishna al giorno per tutto il resto della mia vita e di adoperarmi con sincerità e impegno nella missione di Shila Prabhupada per diventare il servitore del servitore del servitore di Shila Prabhupada e grazie Maharaj per avermi accettato come discepola. Grazie a tutti. Daniele è praticamente un guru che sta guidando centinaia e centinaia di seguaci sul sentiero dello yoga e della bhakti. Shila Prabhupada è così contento di te che ti rendi così umile nel diventare la servitrice dei servitori e dei servitori della sua missione. Anch'io sono profondamente grato. Grazie. Questo è un giorno storico. per conto di Shila Prabhupada e della nostra Guru Parampara per conto di Shila Prabhupada e della nostra Guru Parampara Grazie a tutti. 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 16 rounds every day till the end of my life and to serve the servants of the servants of Srila Prabhupada missions Thank you very much on behalf of Srila Prabhupada and our Guru Parampara very happy to give you the name Achyuta Keshava Das Adios 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 Achyuta Keshava Keshava Adios 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 I promise to follow four regulative principles such as no meat eating, no illicit sex, no intoxication and no gambling. And I also will chant at least 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra every day. And I will try to somehow... Yes, I will become the servant of the servant of the servant of the servant of the Krishna Maha Mantra. Somehow. That's a very important word. In un modo nel altro. Thank you very much. On behalf of Srila Prabhupada, I am very honored to give you the name Vrajalila Das. Alexandra! Allo! 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 Whatever I do never know about you, I will not show you how much you are. Dear Gurudev, I promise for my whole life to follow four regulative principles, no meat-eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. Also I promise to chant at least 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra every day and be engaged in Prabhupada mission in the mood of a servant of a servant of a servant. Thank you very much, Prabhu. On behalf of Srila Prabhupada, I am honored to give you the name Amala Gopal Das. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Thank you very much. Grazie a tutti. 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 Thank you. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. grazie a tutti. e a tutti. grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. grazie 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 a tutti.